Sì, grazie, sono il Retro T Sì, grazie, 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 grazie Retro T ha appena pubblicato il suo ultimo singolo che si chiama Special Lover Ma prima gli voglio chiedere, qual è il brano che ti è piaciuto ultimamente? Quali artisti stai seguendo? Sai chi indone e chi ho con chi indiettano? Io sono un po' di più, ma anche i ragazzi sono un po' di più Il Hip Hop è molto importante Ma anche se gli artisti stai seguendo da Damien Marley Junior Retro T segue sia il Hip Hop che il R&B e il Reggae Ma se c'è un artista in particolare che gli sta piacendo in questo periodo Che sta ascoltando tanto è il figlio di Bob Marley, Damien Direi, già, c'è tutto P.V. in suonimiti mi va a show Special Lover Sì, ok Già, ci andiamo a vedere il nuovo singolo di Retro T, Special Lover, qui è Urban Week Sì, ok Sì, ok Sì, ok Sì, ok E questo era il video di Retro T che oggi è qui con noi Dove avete girato il video? Dov'è? 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 Dov'è?